buongiorno a tutti grazie di essere qui con noi siamo davvero felici oggi di avere la disponibilità per questo colloquio sul femminismo sul pensiero femminile pensiero al femminile la grande scrittrice italiana da ciamaraini che non ha bisogno di alcuna introduzione perché tutti la conosciamo benissimo e siamo davvero felici di poter dialogare con lei e la professoressa carla lunghi che è docente di sociologia dei progetti processi culturali presso l'università cattolica di milano questo incontro organizzato dalla cooperativa cattolica democratica nei mezzi coi mezzi che in questo periodo ci sono consentiti che però ci hanno consentito in questo anno di tenere un rapporto stretto con il nostro pubblico continuare quest'opera di riflessione che portiamo avanti ormai da tempo immemorabile a breccia questo incontro dicevo è dedicato al femminismo e pensiero al femminile lo vogliamo dedicare in particolare alla memoria di maria grazia dusi faroni che è stata che ci ha lasciato da poco con grandissimo dolore di tutti noi una morte precoce è stata vicepresidente della cooperativa cattolica democratica ha dedicato tante sue energie era una donna meravigliosa alla nostra cooperativa ea tante altre realtà brecciane non solo la ricorderemo più avanti ma anche più avanti ricorderemo alcune cose che lei ha detto ma davvero con commozione questo incontro è a lei dedicato allora partiamo dalla prima domanda la prima riflessione a partire questo è anche l'occasione per presentare un libro che da ciamaralini ha scritto insieme a chiara valentini coraggio delle donne da poco pubblicato che è una bellissima sintesi a mio parere di quello che sono veramente i temi del pensiero femminile ancora un riassunto di tutto il percorso che è stato fatto ma anche un grande incipit su cosa può dare ancora questo pensiero femminile al mondo con una serie di interrogativi che sono davvero interrogativi cruciali per comprendere appieno il fenomeno e ruolo delle donne nella società per cui io partirei proprio da una domanda da un tema che forse il primo tema affrontato anche in questo libro a che punto è la notte il femminismo ha portato tutta la storia del femminismo portato a questa grande consapevolezza in primis nelle donne ma poi nella società di aver vissuto un'oppressione millenaria che probabilmente per lunghissimo tempo nemmeno le donne erano consapevoli di vivere tranne poche illuminate che la storia ci sono sempre state in questo libro si raccontano anche storie di donne illuminate che avevano capito antitempo quanto fosse grande l'oppressione in cui si è vissuti e quanto il modello patriarcale maschile fosse uno strumento d'oppressione anche dal punto di vista culturale talmente forte da convincere le donne stesse di una di una subalternità di una inferiorità credo che su questo tema davvero la consapevolezza avanti non c'è molto da dire basta credibile quando ci si pensa le donne hanno ottenuto in italia il diritto di voto nel 1946 46 ieri proprio veramente l'altro ieri forse dopo millenni di storia quindi è chiaro che la domanda a che punto siamo della notte è una domanda secondo me assolutamente pertinente quanto in questo breve periodo da quando i movimenti femministi hanno preso piede alla fine dell'ottocento lungo il novecento gli anni settanta da ciamaraini è stata una protagonista del femminismo anni settanta in italia ma stiamo parlando in un periodo molto breve di presa di consapevolezza a fronte di un millennio di storia quindi credo che davvero interrogarsi a che punto siamo di questo percorso sia la prima domanda che dobbiamo porci io lascerei subito la parola alle nostre interlocutrici su questa prima domanda grazie allora io penso che il femminismo è stato una delle grandi rivoluzioni pacifiche che ha dato dei frutti perché molto spesso le rivoluzioni non cambiano molto perché poi si torna indietro ma il femminismo ha dato dei grandi frutti che sono soprattutto quelli legali perché le leggi tutte le leggi che sancivano l'inferiorità femminile sono scomparse totalmente quindi sulla carta siamo pari naturalmente sulla carta perché è più facile cambiare una legge che cambiare una mentalità e non solo ma c'è tuttora noi vediamo che la violenza contro le donne sta aumentando sta aumentando sia dal punto di vista sociale che culturale che economico d'altronde proprio dell'altro ieri la statistica che la perdita delle del lavoro le donne sono addirittura 90 per cento una cosa incredibile e però io lo attribuisco proprio a una reazione al fatto che le donne hanno fatto una grande rivoluzione che hanno ottenuto delle grandi libertà giustamente francesca diceva abbiamo ottenuto il voto nel 46 però non so il delitto d'onore nell 81 il delitto d'onore 81 la parità sul lavoro negli anni 70 insomma il il diritto di famiglia tutte cose fra il 70 e l'ottanta sono cambiate per fortuna però è chiaro che questo ha creato delle reazioni nella parte maschile più reazionaria più tradizionale che non vuole perdere i suoi privilegi storici e che di fronte all'autonomia e alla libertà delle donne entra in proprio entra in uno stato di di furore è veramente non lo può accettare non può accettare e preferisce magari trasformarsi in un assassino piuttosto che accettare di perdere dei diritti che poi è un diritto non è niente a che vedere col sesso il diritto di comandare di dominare di decidere di governare e la parte femminile all'interno della famiglia oppure fuori nella politica l'abbiamo visto anche negli ultimi proprio avvenimenti politici dove appunto se le stesse donne della politica si sono accorte che si facevano si eleggevano si sceglievano degli importanti ruoli e le donne scomparivano quindi credo che ancora il lavoro è molto da fare no però ecco però qualcosa è cambiato sì ma credo che però ecco un altro aggiungo per finire che non dobbiamo però tanto gloriarci e essere felici perché basta pensare che intorno a noi a poche migliaia di chilometri ma anche centinaia di chilometri ci sono situazioni gravissime di assoluta proibizione e costrizione delle donne basta pensare alla mutilazione genitale tanto per dirne una no ancora tre milioni di bambine vengono mutilate genitalmente ogni anno che è una cosa agghiacciante a pochi chilometri da noi quindi se pensiamo questo capiamo quanto sia incompiuta questa emancipazione oppure le donne che sono costrette a portare il velo a portare il burca a non a sopportare le condizioni di inferiorità legale o famiglia eccetera eccetera quindi c'è ancora molto a fare però non voglio essere pessimista non penso che non si possono cambiare le cose le cose sono cambiate stanno cambiando e piano piano qualcosa viene fuori insomma certo c'è molta lentezza non è una cosa che si può cambiare così perché ci sono mille anni dietro tre mila anni di storia che hanno affermata questo affermato con le leggi non solo con le abitudini ma proprio con le leggi e poi non peggio di tutto di tutto è che c'è un dio cioè come si fa a disubbidire un dio che dice che la donna nasce dalla costola di Adamo rovesciando l'idea che è la donna che dà la vita togliendo a lei la capacità di dare la vita e poi estromettendola dalla trinità no c'è un padre un figlio è lo spirito santo e la donna dov'è tutto questo ha pesato e giustamente come diceva Francesca le donne hanno introiettato ma per forza di cose perché le si dice si è detto per migliaia di anni che non è capace che è inferiore che esiste solo in quanto corpo che esiste come madre ma che non ha nessuna capacità decisionale all'interno della società a un certo punto moltissime donne ci hanno creduto e hanno creduto che per ragioni fisiologiche biologiche non sono portate a esercitare un qualsiasi mestiere all'interno della società ecco questo è fra l'altro il movimento delle donne si è trovata anche questo che spesso erano le donne stesse che erano ostili ai cambiamenti perché 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 non ci si riconoscevano perché credevano in questo destino il destino della maternità della casalinguità dell'asservimento eccetera eccetera sì sono assolutamente d'accordo e direi che se per rispondere un po alla domanda che punto siamo della notte direi che siamo un po io direi quasi diciamo in un punto molto critico potrei dire quasi a metà quando si è non si sa se andare avanti o tornare indietro nel senso che sicuramente il femminismo diciamo per fortuna c'è stato e per fortuna ha portato a tutta una serie di conquiste sia legali e direi anche culturali però mi sembra che siamo in un momento in cui non sia il caso di dare per scontato queste conquiste ma cercare di ricordare che cosa è stato il passato che cosa è stato conquistato cioè cercare appunto di lo vedo un po nelle mie studentesse no alcune hanno un po questo atteggiamento del non non tematizzare nemmeno questa presunta uguaglianza o parità la danno un po per scontata anche se poi nella realtà concretamente tante volte non si verifica e quindi direi non dare per scontato queste conquiste e una grande attenzione come dire un vigilare un po su quello che succede perché siamo in un contesto anche quello occidentale diciamo dove è nato il femminismo un contesto che è sicuramente molto più complesso molto più stratificato oggi le donne in Italia non sono più le donne italiane sono come dire ci sono tante componenti culturali molto diverse forse più che di donne meglio parlare di donne perché c'è tutta una complessità culturale portata anche soprattutto da persone migranti che hanno altre visioni altre idee altri valori un'altra concezione della maternità della femminilità e quindi direi che da un lato il vigilare sulla contemporaneità oggi comporta da un lato questa attenzione alle diversità senza preclusione o pregiudizi perché c'è il rischio appunto di non riuscire a instaurare un dialogo che sia costruttivo con queste diversità anche femminili e dall'altro però cercare di trovare appunto un filo rouge in queste diversità femminili che è appunto l'essere donna quindi trovare questa solidarietà femminile che riconosce senza uniformare le diversità tra donne che vivono soprattutto in Italia se pensiamo alla situazione attuale una situazione molto molto diversificata per cui c'è un gruppo possiamo dire anche di donne e di persone un pochino più avvantaggiato che quindi tende un po' a sminuire a dare per scontato le conquiste del femminismo a dire non c'è più bisogno di ribadirle ci sono altre persone altre donne invece in situazioni di maggiore difficoltà e che magari non si riconoscono in questa eredità culturale più occidentale quindi è una situazione mi sembra molto complessa in cui penso sia importantissimo educare le nuove generazioni a riconoscere l'importanza a conoscere anche la storia del femminismo perché anche quello è importantissimo le ragazze giovani, io vedo le mie studentesse a volte non hanno nemmeno consapevolezza tendono un po' anche a etichettare il femminismo come un unico movimento in realtà è stato molto sfaccettato, molto interessante anche appunto nel libro Dasha ripercorre anche tutto questo dibattito tra uguaglianza oppure pari dignità, uguaglianza, differenza questo è secondo me una grande ricchezza che deve essere mantenuta, deve essere ricordata, deve essere trasmessa e deve coniugarsi ripeto con una complessità di oggi che mi sembra che si sia notevolmente diciamo scusate la ripetizione un po' complessificata proprio perché si stanno aggiungendo tante criticità, tante fragilità quindi siamo un po' nella notte e in quella fase in cui bisogna non perdere la speranza e insistere, continuare perché c'è il rischio proprio di scivolare indietro di 20, 30, 40 anni nel giro di pochissimo, ecco siamo in un momento molto molto delicato a mio avviso siccome anch'io vado molto nelle scuole, anche se non insegno ma vado nelle scuole effettivamente sono d'accordo, le ragazze non vogliono sentire parlare di femminismo che poi lo considerano una cosa di archeologia però sono molto radicali cioè i loro diritti ci cengono cioè i loro diritti li considerano una cosa fatta e ce l'hanno e basta, quindi non è che siano lontani anzi sono più radicali di me da certi aspetti quando io parlo con loro loro danno per scontato che questi diritti ce l'hanno quindi questa è già una cosa importante anche se non sanno come sono arrivati questi diritti non sanno cosa sono costati eccetera no, la cosa per me, e poi sono d'accordissimo con Carla che è vero che noi dobbiamo fare i conti con la confronto con altre culture questo comporta delle problemi di identità cioè cosa è l'identità ecco però questo fatto, proprio il fatto che ci sono identità diverse fa capire che essere donna non è un fatto biologico perché se fosse biologico saranno tutte uguali invece ci sono diversità enormi perché? perché in realtà la donna è figlia della storia come anche l'uomo naturalmente ma tutto quello che vive che è una donna viene dalla storia e la storia che l'ha costruita in un certo modo che per esempio io lo dico sempre le donne hanno imparato a sublimare meglio degli uomini questo non c'è dubbio sublimare vuol dire trasformare gli istinti aggressivi, violenti, di prepotenza in contrario, in cura, in attenzione, in protezione ora da questo punto di vista io lo dico sinceramente io credo che oggi le donne sono migliori degli uomini in generale poi naturalmente ci sono anche delle pessime donne tremendissime e degli ottimi uomini ma in generale le donne sono migliori degli uomini perché storicamente hanno imparato a sublimare e perché sono state lontani dal potere perché secondo me il potere corrompe il potere corrompe sempre e quindi le donne essendo state escluse dal potere hanno una maggiore pulizia mentale se vogliamo dire così da persone che sono state fuori dal potere infatti la mia preoccupazione è che le donne entrando nel potere al principio naturalmente manterrando questa loro innocenza però la mia paura è che vengano corrotte dal potere perché il potere corrompe questo non c'è dubbio quindi bisogna stare molto attenti a non prendere insieme col potere che il potere è importantissimo ma non parlo di potere in quanto imporre qualcosa agli altri il potere è la libertà è il potere essere libera di viaggiare di camminare di amare di muoversi di dire le proprie idee è un potere quindi le donne giustamente chiedono potere entrare in tutte le professioni quello è il potere cioè il potere è anche libertà naturalmente si deve confrontare con il potere degli altri però è un potere la mia paura è che guadagnando situazioni sempre più di potere le donne possono corrompersi e diventare anche loro corrotte per via del potere quindi il potere bisognerebbe prenderlo con molta attenzione e razionalizzare di più, ragionare di più visto che siamo stati per tanti secoli e millenni fuori dal potere almeno prendiamo l'aspetto positivo di questa esclusione dal potere io credo che questo si possa fare grazie io prendo spunto da queste parole di Dacia per porvi altre due questioni ve le pongo tutte pensavo di articolarle in due momenti diversi ma ve le pongo tutte e due insieme così siete liberi di rispondere a quella che ho preferito a tutti e due o a nessuna di esse allora le due temi che mi venivano in mente sentendo quello che diceva Dacia adesso questo è proprio questo tema della sublimazione che in qualche modo porta a riconoscere nel femminile delle caratteristiche, dei valori diversi dal maschile il femminismo come ci racconta Dacia in questo libro è stato anche la capacità delle donne di raccontare se stesse perché una delle forme principali di oppressione il strumento di oppressione nel corso dei millenni è stato quello che racconto sulle donne lo facevano solo gli uomini gli unici che avevano accesso alla cultura, alla conoscenza, alla possibilità di raccontare anche raccontare in tutte le forme di questo racconto anche in teatro, nel libro si ricorda come le donne non hanno partecipato non potevano salire su un palco fino a lunghissimo tempo nella storia allora il racconto delle donne la percezione di qual è il femminile fatto dalle donne è una conquista del femminismo è portato a una visione un po' diversa da quella che è degli uomini e quindi Dacia ha affrontato il tema la diversità tra femminile e maschile è un fattore biologico e un fattore culturale frutto di questo racconto queste caratteristiche diverse delle donne sono frutto di questa capacità di sublimazione come ha raccontato Dacia sono qualcosa iscritto nella biologia delle donne l'essere più disponibile, prendersi cura la maggior duttilità, la capacità di resilienza l'essere meno ambiziosi in qualche modo e qui il dibattito aperto credo anche se forse il portato più avanzato appunto di questa cultura femminista è pensare che in realtà la cultura ha determinato moltissimo di queste caratteristiche io qui voglio richiamare perché poi differenze biologiche qual è la differenza biologica più evidente? è la maternità, su questo non c'è dubbio e quindi avevo detto prima che avrei voluto richiamare Maria Grazia Maria Grazia ha avuto quattro figli ha perso il suo secondo figlio che aveva nove anni e lei negli ultimi vent'anni della sua vita ha vissuto con questa immensa perdita ha elaborato moltissimo sul tema del dolore e sul tema del senso della vita che cosa comporta il dolore della vita di una donna e ha scritto un'introduzione a un libro di ricordi sul suo bambino due anni prima di morire era già molto malata e in questa bellissima introduzione che è veramente un testo profondamente intenso sul dolore a un certo punto dice che cosa ho fatto in questi vent'anni da quando è morto il suo secondo genito lei ha avuto come dicevo quattro figli e dice innanzitutto sono stata madre già lo ero la dimensione materna è sempre stata fortissima in me essere madre è sempre stata la mia vera identità il mio destino, il mio compito il lavoro al quale mi sono dedicata con più impegno e con tutta me stessa e ne sono soddisfatta allora questo tema della maternità come vocazione, come destino come qualcosa che chiaramente può essere letto come il frutto di un'evoluzione culturale in cui la donna è stata appiattita sul tema della maternità un onere, no? quello che era il suo destino essere madre e per certi versi questo passo di Maria Grazia può essere letto come una come un proprio far proprio questo destino culturalmente assegnato nel contempo a me pare che comunque questa vocazione alla maternità che è dentro nel DNA credo anche genitico oltre che culturale delle donne culturale senz'altro per quello che abbiamo detto il portato culturale di millenni di storia ma anche genitico l'esperienza della maternità comunque è un'esperienza che è vissuta dalle donne sia che l'abbiano vissuta sia secondo me che non l'abbiano vissuta comunque è un'esperienza che è un portato carico di un valore assoluto però mi chiedo se da questo punto di vista l'autocoscienza delle donne ha raggiunto una pienezza nel senso che nella maternità a mio avviso e non c'è bisogno di scomodare Freud ormai questo è un portato della nostra cultura delle nostre acquisizioni nella maternità si esprime un momento in cui sulla vita del bambino la mamma ha una potenza infinita e per i primi mesi che così per i primi anni per i primi mesi sicuramente lì si esprime veramente un valore assoluto della donna per il suo bambino e attraverso il suo bambino per la società che questo bambino costruirà c'è l'imprinting del bambino e della sua relazione col mondo allora se noi fossimo ancora più consapevoli di questo valore immenso una delle battaglie fondamentali sarebbe quella di chiedere non solo rispetto non solo l'eguaglianza su questa cosa qui non solo le tutele per cui vengono pagate le maternità eccetera ma un riconoscimento ulteriore da parte della società che questo momento è un momento decisivo per la crescita della società stessa deve diventare un aspetto assolutamente prezioso che la società valorizza con ogni mezzo anche economico ma non solo e da questo punto di vista mi chiedo passo al secondo tema della mia conversazione con voi che vorrei suscitarvi qual è il contenuto specifico a prescindere la maternità ma di queste caratteristiche del femminile cos'è che possono apportare al futuro della nostra società come beneficio che vale per tutti non per le donne ma per l'intera società per l'evoluzione della nostra società sono molto d'accordo sul senso della maternità io però l'allargherei nel senso che non la legherei proprio solo alla maternità biologica cioè è proprio un po' una metafora del femminile ma mi verrebbe da dire una metafora dell'essere umano in senso lato perché credo che l'essere umano abbia questa spinta la creatività la creazione quindi che sia la creazione di un essere vivento che sia la creazione di un'opera d'arte che sia la creazione anche di un manufatto meno importante meno pregevole credo che appunto la natura umana sia proprio quella della creazione poi nella donna questa creazione ha anche questa questa caratteristica no? che si concretizza poi nella nella maternità biologica per cui sono d'accordo non vorrei però proprio restringerla solo alla maternità biologica perché c'è poi il rischio secondo me di creare poi donne passatemi il termine scusate donne di serie A di serie B perché c'è poi anche nella cultura attuale un po' questa enfasi sulla maternità biologica per cui una donna si sente completa solo se no? mette al mondo degli esseri umani si sente incompleta quindi ripeto trovo questa cifra caratteristica della femminilità nella maternità ma intesa in quanto creazione in quanto procreazione in quanto appunto collaborare alla riproduzione della società sia a livello simbolico sia a livello proprio biologico fisico materiale quello che la femminilità secondo me ha aggiunto la possibilità all'orizzonte che la femminilità apra la cultura e ritengo appunto che veramente nella costruzione della masculinità e della femminilità ci sia tantissimo di culturale molto poco secondo me di genetico o biologico credo sia proprio un po' quello che indicavano appunto Dacia e Chiara Valentini nel libro cioè questa sublimazione della ripressione dell'istinto aggressivo in sensibilità accoglienza capacità di mediazione di cura che non significa creare delle figure come dire passive remissive eccetera perché credo che anche tutti gli studi filosofici e sociologici che cosa cercano di spiegarci cercano di spiegare come mai noi riusciamo a vivere in società a rispettare delle leggi delle regole eccetera senza scannarci senza ammazzarci sicuramente la cultura ha questo effetto diciamo di poter in qualche modo disarticolare o togliere vigore all'istinto aggressivo che ci renderebbe lupo per l'altro lupus homino lupus esso cioè essere aggressivi gli uni verso gli altri e credo appunto che la femminilità sia stata questa grande capacità di riuscire a ritrasformare questo istinto aggressivo che comunque è un istinto di vita comunque un istinto di come dire andiamo avanti cioè l'aggressività in sé non è negatività to cure è negatività quando ha degli impatti assolutamente negativi perché se no l'aggressività è una forza propulsiva e secondo me le donne hanno avuto la capacità di trasformare questa sforza propulsiva di togliere per così dire gli esiti più nefasti più negativi e di trasformarla appunto in questa accoglienza degli altri della vita delle relazioni e questa capacità anche di mediare e di curare chiudo facendo una anni fa io feci una ricerca in carcere su alcune cooperative femminili in carcere e c'era tutta questa questione delle varie studiose che da sempre la presenza delle donne in carcere è una presenza minoritaria è attorno al 4,5% e quando lo spiego in classe gli studenti rimangono allibiti perché dico su 100 detenuti tenete conto che 4 sono donne e 96 sono uomini e allora c'è stato tutto questo tentativo di spiegare come mai le donne sono più buone sono più brave geneticamente eccetera eccetera e mi ricordo che leggendo vari trattati sociologici una sociologa secondo me in maniera molto illuminante a un certo punto dice ma è ora di ribaltare la prospettiva di studio perché è ora di chiedersi non perché ci siano così poche donne ma perché ci sono così tanti uomini nelle carceri quindi la norma non è l'aggressività maschile che porta a delinquere la norma dovrebbe essere appunto il comportamento femminile che porta poche donne a delinquere ecco senza voler introdurre altri temi però è interessante quindi direi proprio che secondo me l'apporto del femminile è stata questa capacità di trasformare l'istinto aggressivo ripeto che non necessariamente secondo me è negativo è una propulsione a vivere la voglia di vivere di superare le difficoltà di andare avanti e in estrema sintesi direi che l'apporto che il femminile può dare al nostro mondo alla nostra cultura è anche far vedere che si possono fare le stesse cose in maniera diversa cioè che alcune cose possono alcune o forse tutte possono essere fatte in maniera diversa io sono molto d'accordo con te io vorrei ricordare che sia in due fare un figlio non è che esiste solo la madre sia in due fare un figlio poi naturalmente la divisione dei compiti ha fatto sì che gli uomini fossero in qualche modo destinati a un altro destino cioè vai a fare la guerra vai a conquistare i paesi vai a occuparti delle frontiere e questo ha fatto sì che le donne prendessero l'altra parte della della genitorialità no? si sono state caricate del peso della genitorialità perché faceva anche comodo che fossero loro perché li facevano loro quindi stai a casa occupati dei bambini insomma questa è l'idea tant'è vero che la maternità che nel mondo arcaico ma proprio molto arcaico era un grande valore anzi era tutta la cosmogonia era fatta era fatta lo vediamo dalle statuette dai disegni era la madre era il potere assoluto voglio ricordare bellissima la bellissima leggenda dei pelasgi cioè quelli che precedevano i gresci dicevano che il mondo era un uovo a proposito delle uova di Pasqua addirittura viene da lì che l'uovo che il mondo cioè che c'era un uovo un uovo bellissimo che aveva fatto questa Orinami questa dea è una dea che aveva fatto un uovo e lo coltivava lo come si dice lo covava poi siccome però non riusciva a stare tutto il tempo lì chiede a Eufione che era che era un serpente di covare l'uovo quando finalmente l'uovo si apre tira fuori tutto l'universo vengono fuori i boschi i prati gli animali cioè il mondo intero viene fuori dall'uovo e allora lui quando vede questa bellezza dice ma allora io l'ho fatto io l'uovo tu non senti niente e lei si arrabbia talmente che piglia a calci quest'uomo e questa è leggenda non l'ho inventato io piglia a calci quest'uomo e i denti che lui perde vanno a finire nell'acqua e da lì nascono alcuni demoni vabbè tutta una leggenda però è bella come idea l'uovo ecco l'uovo è stato covato dal corpo femminile quindi all'inizio la nascita fra l'altro non si sapeva nemmeno che l'uomo partecipava alla creazione quindi il corpo femminile la gravidanza era considerata una cosa sacra era il principio della vita e quindi sacra poi è stata in qualche modo espropriata però questo non ha niente a che vedere con la divisione dei compiti la divisione dei compiti viene dopo viene dopo e viene dopo divisione dei compiti in cui è chiaro che gli uomini hanno preso il potere come ho detto prima quando c'è una cosmogonia in cui si stabilisce che c'è un dio padre e non c'è una dea madre non c'è non c'è e lui fa una figlia non neanche lo fa lui lo fa lo spirito santo in maniera misteriosa con una donna umana che quindi non fa parte della sacralità del cielo non è eterna ecco e poi c'è e poi viene fuori la sacralità il simbolo magnifico del padre figlio spirito santo in cui la madre non c'è non c'è tutto questo è quello che vogliamo però è stata la base del nostro rapporto col mondo è una cosmogonia importantissima che ha avuto una grande importante e poi le donne sono state considerate peccatrici perché sono state all'origine della cacciata del paradiso non dimentichiamo queste sono cose che contano queste perché per secoli e millenni sono sentite dire soprattutto nel mondo cattolico naturalmente che erano responsabili della cacciata del paradiso quindi colpevoli e quindi infatti tutti i dolori mali partorirai con dolore poi il lavoro la fatica tutto questo viene colpa della donna che ha mangiato la mela della conoscenza andando contro una proibizione curioso anche che la donna sia stata la più tentata dalla conoscenza no? tra l'altro va bene che per noi non è una cosa negativa però da un dio molto severo e patriarcale era considerato una cosa negativa quindi io penso che la paternità è una grande non detto infatti tutta questa mania appunto di fare la guerra perché appena c'è qualcosa che non va ci si fa la guerra viene fuori secondo me dall'avere dall'avere eliminato dall'esperienza maschile la maternità la paternità la paternità perché appunto si è in due lo raccontiamo Pinocchio lo racconta molto bene il Geppetto vuole un figlio a tutti i costi non ha la madre non ha una moglie vuole un figlio no? che cos'è? è un istinto di paternità bellissimo secondo me è quello per cui il libro è così importante è il libro più conosciuto nel mondo fra i libri italiani beh e questo lo costruisce e la meraviglia è che alla fine riesce a trasformare un burattino in un bambino in carne ed ossa che cos'è questo? è l'istinto di paternità che esiste secondo me uguale solo che la storia ha spinto le donne a coltivare l'istinto di maternità e quindi a sublimare e quindi ad adossarsi a prendersi tutte le caratteristiche della maternità cioè la cura la guida il sacrificio l'amore la tenerezza eccetera e gli uomini sono stati costretti perché anche loro sono costretti ad adossarsi tutta l'altra parte che è la parte che riguarda la vita la società l'organizzazione sociale la morte perché andava a fare la guerra l'assassinio il delitto eccetera io ho fatto come te Carla ho fatto delle lunghe ricerche sul carcere molti anni fa però avevo fatto un'indagine sulle carceri femminili da Trieste fino a Palermo quindi li ho visitati tantissimo e la cosa la prima cosa che mi stupiva moltissimo era che le carceri maschili erano strapieni di uomini come dicevi tu esattamente a centinaia non sapevano dove metterli no? e il problema era la sovrappopolazione e le carceri femminili erano vuote c'erano 4 carcerate 10 carcerate e quasi tutte per ragione di droga anche allora per ragione di droga perché avevano trasportato la droga cioè non grandi delitti grandi delitti ce n'erano pochissimi di assassine ce n'erano pochissimi rispetto ai maschi allora appunto la domanda uno dice ma allora perché perché sono istintivamente cioè biologicamente assassini ma non è così ma non è così secondo me fra l'altro io non sono una biologa ma non esiste una DNA femminile il DNA è uguale per tutti al 99,9% poi ci sono le differenze maschio femmina ci sono le differenze di luoghi dove si è nati eccetera però il DNA è uguale per tutti per cui siamo tutti uguali solo che la storia crea crea i modi di stare al mondo crea le differenze crea i ruoli secondo me il ruolo femminile naturalmente è stato sacrificato molto sacrificato e quindi ha dovuto introiettare un senso di malessere di inferiorità di incapacità di inadeguatezza questo le donne io stessa io stessa lo so anche se sono una donna emancipata io se qualcuno mi dice di brutto muso che hai fatto io subito mi sento in colpa perché la colpa è come se l'avessimo come un destino poi ci ragiono sopra e vabbè però questo senso di inadeguatezza di colpevolezza di inferiorità eccetera l'abbiamo introiettato ma è normale che sia così dopo 3000 anni di storia è normale allora adesso io non sono d'accordo su partire a dire accentuiamo la questione della maternità no io direi anzi dividiamola di più perché giusto perché allora scusa cosa deve dire la Cristoforetti per esempio che giustamente dice io voglio andare nell'universo voglio andare a scoprire voglio andare ed è felice innamorata perché una donna non deve diventare una grande artista una grande scienziata finora gliel'hanno proibito non è che non era capace era capace solo di fare figli no era capacissima di fare tutto di fare l'ingegnere di fare l'architetto di fare il pilota tutto le donne hanno fatto anche tutto hanno scritto hanno dipinto però sono state messe a tacere c'è un silenzio sul passato delle donne però perché dire che le donne sono buone perché la loro unicità la loro identità e la maternità io non sono d'accordo non sono d'accordo perché vuol dire condannare tutte quelle donne che hanno faticato enormemente perché gli hanno sempre detto no tu sei fuori no tu sei esclusa no non puoi partecipare agli studi superiori no non puoi essere un poeta no non puoi essere un pittore tutte le storie terribili che abbiamo di donne nella nostra storia che hanno fatto delle cose belle che sono state o uccise o messe da parte o d'annazio memoria eccetera non è possibile e fa piacere anche al mondo patriarcale che noi siamo considerate le madri grazie fa piacere tanto le madri lavorano gratis quindi va tutto bene perché ricordiamoci anche questo perché pensa che molte donne lo considerano un destino del loro corpo non solo quello di sacrificarsi per i figli per il marito quello che sia ma anche di lavorare gratuitamente questo io sono una cosa pazzesca io sentivo dei bambini in una scuola dicendo ma tua madre che fa non fa niente ma come non fa niente dicono chi è che lava i piatti che stira che pulisce mia madre e tu lo chiami niente beh vabbè ma mica lavora ecco questo è il ragionamento di un bambino di un bambino piccolo per dire che il lavoro delle donne che è enorme è enorme il lavoro che fanno il lavoro anche di cura gli anziani i malati i bambini la casa eccetera tutto questo non è considerato non è valutato e che cos'è allora diventa allora la maternità diventa un destino io non sono assolutamente contraria penso che appunto la maternità che ho che dico che è una cosa bellissima io ho perso un figlio ho scritto un libro a settimo mese per me è stata una tragedia enorme ho voluto a tutti i costi questo figlio che poi è morto quindi non è che io ne parli come una che non vuole figli per carità sono meraviglioso c'ho tutto i nipoti i bambini per me la maternità è una cosa bellissima bellissima sacra sacra e che purtroppo non è considerata sacra perché se fosse considerata sacra non ci sarebbe l'aborto se fosse un se fosse una società a misura di donna l'aborto non ci sarebbe perché si sarebbe trovato un modo di praticare la maternità responsabile che sarebbe la cosa più logica ma siccome si è sempre proibito alle donne di gestire il proprio corpo perché non è sempre stato proibito di usare gli anticoncezionali adesso grazie ma prima era proibito dalla chiesa era proibito dalle costume non si doveva usare gli anticoncezionali allora è chiaro che poi le donne dovevano poi se non volevano un figlio dovevano ricorrere all'aborto quindi stiamo attenti sempre io insomma diffido molto del discorso del discorso fisiologico biologico perché porta sempre a delle discriminazioni mentre appunto io partirei dalla parità poi come ho detto le differenze ci sono e sono enormi ma sono storiche se accettiamo che sono storiche allora tra l'altro la storia si cambia mentre la biologia non si cambia quindi si può cambiare se vogliamo per esempio un mondo di pace giustamente le donne sono più portate alla pace ma non perché biologicamente ma perché sono state escluse dalle guerre sono state portate a occuparsi appunto a fare quella sublimazione di cui parlavo prima beh usiamola diamola come un valore un valore che possa valere per tutti anche per i maschi io questo ne sono convinta di questo grazie mille temo che il nostro tempo è finito avremo mille cose di cui ancora parlare ma magari in qualche prossimo incontro grazie davvero a tutti grazie a te Francesca che ci hai messo in contatto grazie a casa grazie Francesca a presto arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti